Benvenuti a Occhio ai Giornali, oggi è giovedì 8 luglio 2021, questa è Fano TV sul canale 17 c'è Occhio ai Giornali, il commento alla stampa del giorno, allora iniziamo come di consueto con il Santo del Giorno, lo vediamo subito con il cartello, oggi la Chiesa ricorda i Santi Aquile e Priscilla, collaboratori di Paolo, hanno aiutato l'Apostolo anche in situazioni difficili rischiando anche la loro vita, alle 5.33 l'alba, 20.55 il tramonto. Oggi è una giornata incerta cari telespettatori di Fano TV, una giornata incerta perché non sappiamo esattamente che cosa succederà nel pomeriggio, se queste precipitazioni isolati rovesci sul settore montano e collinare della regione interesseranno queste precipitazioni anche un po' la costa, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, qui siamo sul sito della protezione civile delle Marche, questa è la fotografia della giornata odierna, domani sole sulla costa con qualche anovolamento invece nell'entroterra, sole invece bello pieno per la giornata di sabato, mentre il nord Italia vivrà invece, pare, momenti difficili con temporali anche violenti, ma noi adesso per rilassarci, cominciare bene questa mattinata, andiamo in riva al mare, siamo sulla spiaggia, sulla spiaggia dei bagni Arzilla, dove anche se con questo cielo alle spalle molto minaccioso ci attende oggi Roberto, un dipendente dei bagni Arzilla. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti, da Bagni Arzilla. Allora, siamo qui con questa cartolina che tu ci offri questa mattina, con un mare chiaramente ancora in completa bonaccia, gente che sistema la spiaggia, sono scene di ordinaria amministrazione, però, come dicevo poco fa, i nostri telespettatori di tutta la regione Marche che ci seguono, insomma, qui siamo in provincia di Pesor Urbino, siamo a Fano, nella spiaggia di Fano, che succede con questo tempo Roberto, tu che sei un esperto? Oggi diciamo che il tempo non è dei migliori, abbiamo avuto giornate migliori in passato, diciamo. Ecco, ma questa pioggia oggi, secondo te, ci sarà o no? Guarda, noi qua a Arzilla godiamo di un particolare anticiclone, voglio di solito, dico sempre così, e secondo me, e spero comunque che per i nostri clienti, che quest'oggi non si verificano precipitazioni, anche se il tempo alle mie spalle non è proprio dei migliori, insomma. Bene, come sta andando in questi giorni, in questo inizio estate? Non è molto caldo, insomma, la gente viene al mare, si tuffa, fa il bagno, si rinfresca. Sì, è l'unico modo per fuggire un pochettino da questo caldo, che specialmente nel mese di giugno, anche nella prima settimana, due di luglio, si sta facendo molto sentire, quindi sì, i nostri clienti si rinfrescono abbondantemente nel mare, e devo dire che comunque sia in questo primo periodo di questa stagione, l'acqua è molto pulita, e quindi dai, non ci si può lamentare quest'anno. Vi sta aiutando anche questo nuovo impianto che Aset ha realizzato lì, a due passi da voi, questa vasca che trattiene tutta quella sporcizia che solitamente poi finiva in mare, che vi penalizzava anche per quanto riguarda la bandiera blu? Sì, sì, devo dire che questa vasca di prima raccolta è realizzata e messa in atto, diciamo, in inizi di questa stagione, ha reso l'acqua decisamente molto bella e ha condizioni. Bene. Un grosso ringraziamento. Vi ha risolto un gran bel problema questa vasca. Grazie di cui abbiamo parlato. Devo dire proprio sì. Grazie Roberto, buon lavoro e buona estate a te e a tutti i tuoi ospiti. Allora, questa mattina sul Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, si parla del nuovo ospedale. C'è il progetto, l'ospedale è quello che non è chiaramente quello di Ceriscioli, tanto per capirci, insomma. L'assessore Saltamartini dice sarà il presidio di Pesaro di primo livello, stimiamo una spesa di 170 milioni di euro, quindi un notevole risparmio rispetto a prima, sopra il luogo con acquaroli e ricci ai siti di muraglia e case bruciate. Eh già, perché qui adesso ancora bisogna capire dove effettivamente costruire questo ospedale di primo livello per Pesaro. Quest'ultimo, case bruciate, permette un forte risparmio e vedremo anche perché. A centro pagina invece riapertura con una nuova supersala per il multiplex, parliamo di cinema, cinema che sono chiusi ormai da un'infinità di tempo, un tuffo nel futuro. Poi, la scuola in ritardo, scuola in ritardo in che senso? Nel senso che settembre è dietro l'angolo e ancora, insomma, ci sono delle situazioni un po' pendenti. Intanto sul fronte dei vaccini, tra docente e personale, ci sono 4.300 persone non vaccinate. Il generale Figliuolo sta pressando un po' le regioni per le vaccinazioni dei professori e del personale scolastico e universitario che ancora non è stato immunizzato. E nelle Marche 4.300 persone del mondo della scuola ancora sfuggono ai radar di fronte ad un'adesione pari all'88,1% della prima dose e all'80% della seconda. Sempre dalla prima del Corriere, da Pesaro, sdoppiare le classi non è la soluzione, mancano gli spazi. Il problema delle discoteche che sono chiuse ormai da quasi due anni, discoteche pronte alla riapertura, la situazione è ridicola, le feste comunque ci sono, si balla anche se abusivamente, illegalmente, un po' dappertutto, ma i locali, quelli certificati, quelli che hanno le autorizzazioni restano chiuse. Sempre da Pesaro, bandiere e premi, gli operatori funzionano bene, parliamo delle varie bandiere che certificano come la bandiera blu, verde, arancione, eccetera. Poi Tari e il fondo anticrisi, ora il via alle domande, Ricci, Pozzi, Mengucci, dicono un grande impegno, oltre 300 mila euro per le famiglie in difficoltà. E poi una bella boccata d'ossigeno anche economica per la città di Fano che ospiterà le finali di pallavolo Under-19, vedremo tra poco. Questa invece è una parte della prima pagina del resto del Carlino, il titolo innanzitutto d'apertura è questo, in terapia intensiva, dopo lo Sputnik. Sapete lo Sputnik, anche se se ne parla poco, ma comunque c'è, esiste ed è un vaccino che è stato realizzato in Russia e questo vaccino lo ha utilizzato la nostra vicina San Marino. Un imprenditore di Gradara si era immunizzato però a Mosca, ieri è finito in rianimazione, ora bisogna capire se è stato contagiato con la variante Delta oppure no. Intanto a centro pagina, sempre su questo argomento, vaccini di famiglia, il titolo della fotonotizia, figli e genitori insieme nel nuovo centro gestito dai pediatri. Il nuovo centro è quello di Vallefoglia. Tutti pazzi per l'Italia, l'Italia sapete giocherà domenica la finalissima contro l'Inghilterra, è già febbre da finale. Poi, sempre sul campo sportivo, l'atleta della Vissauro, parliamo di nuoto, Sabbioni, riporta Pesaro alle Olimpiadi. Lui ovviamente esulta e dice una grande gioia. Il basket allarme VL, l'offerta di Tortona fa vacillare Cain. E poi affano i dipendenti, i dipendenti comunali che sono rientrati per la maggior parte al lavoro dopo lo smart working, ovvero il lavoro da casa attraverso il computer. Il giorno del rientro è questo l'altro titolo che trova spazio sulla prima del resto del Carlino. Ma andiamo a vedere un po' la situazione nella nostra regione. Tanti telespettatori che seguono la rassegna stampa al mattino aspettano comunque questo momento nel quale cerchiamo di fare un po' il punto della situazione per capire che aria tira. Allora, l'aria non è delle migliori, anche se, va detto questo, c'è da una parte l'aumento dei contagi. In particolare nel Piceno, dopo quella festa in spiaggia a San Benedetto del Tronto, dove in quello chalet evidentemente c'era qualcuno positivo al coronavirus, che ha contagiato una marea di gente. E quindi lì è nato quello che viene chiamato un focolaio, un focolaio che adesso si sta facendo sentire. Perché la variante Delta, sappiamo tutti, ormai l'abbiamo imparato a memoria, è sempre il coronavirus, ma che si è modificato ed è più veloce, ancora più veloce di quello inglese, e quindi si contagia con molta facilità. Da lì è partito il focolaio, che chiaramente incide su che cosa? Su queste tabelle, su questi numeri, su queste classifiche, su tutti quei parametri che servono al CTS e al Governo per indicare alle regioni cosa devono fare. Al momento siamo sopra i 50 ogni 100 mila abitanti, quindi la situazione non è bella. Dall'altra parte invece però dobbiamo dire questo, e questo non succede solo nelle Marche, succede per esempio in Inghilterra, la stessa cosa succede però anche da noi, ovvero l'aumento dei contagi non corrisponde all'aumento dei ricoveri o dei decessi, tant'è che invece al contrario dei contagi, nelle Marche continuano a diminuire vistosamente sia i contagiati sia i decessi. I decessi praticamente negli ultimi giorni sono zero, pari a zero, e i contagi, scusate i ricoveri anche qui, a parte uno in terapia intensiva che è entrato, per il resto insomma la situazione non è preoccupante da questo punto di vista. Merito dei vaccini? Probabilmente sì. Allora, il titolo, più contagi, meno sintomatici e reparti Covid si svuotano. Rialzo dei positivi da 69 a 242 settimanali, ma la quota con segni della malattia è scesa, vedete, dal 29 al 16%. Solo tre ospedali marchigiani hanno in carico pazienti con il virus, scesi a 8, uno in terapia intensiva, è tornato a salire il numero dei positivi in isolamento a casa, decessi stabili, nessuna vittima nelle ultime 48 ore. Ieri il Piceno ha registrato 19 dei 52 casi nelle Marche, mentre 10 sono nella provincia di Peso Urbino, 6 nel Lanconetano, 6 nel Maceratese, 1 nel Fermano e 10 da fuori Regione. Vediamo adesso invece il resto del Carlino, il titolo, 10 contagi in provincia, la provincia è quella di Peso Urbino, quindi vedete anche qua, rispetto ai numeri anche dell'anno scorso, chiaramente l'anno scorso, come scrive il giornale stamattina, speravamo di avere un'estate tranquilla, magari senza virus come quella dell'anno scorso, ma le varianti hanno modificato la situazione pandemica ancora una volta. E il caldo, questo benedetto caldo, che l'anno scorso pareva averci salvato, in realtà il caldo da solo quest'anno non basta, non basta più per evitare la risalita dei contagi. Ora, c'è da segnalare un minorenne contagiato a Colli al Metauro, siamo in provincia di Peso Urbino, e che fa parte della fascia di età tra i 14 e i 18 anni. Poi ci sono altri 5 contagiati, sono sempre molto giovani e rientrano nella fascia d'età superiore dai 19 ai 24 anni, si tratta di 4 giovani di Pesaro e uno di Urbani, e poi ce ne sono altri 4 di questi 10 contagiati che rientrano nella fascia tra i 25 e i 44 anni, e anche qui variano dai comuni, insomma ci sono un po' Pesaro, Gradara, Urbania, Acqualagna. Quindi come vedete sono i giovani, i giovani in questo particolare frangente storico, in questo periodo, in questo momento storico, sono i giovani, giovanissimi anche, che si stanno contagiando. E dunque, come scrive anche il giornale, si tratta di una situazione comunque allarmante, secondo gli esperti, perché fa pensare effettivamente che l'autunno sta arrivando molto più in fretta rispetto all'anno scorso. Però, come dicevo, l'aspetto positivo è che al contagio non corrisponde, al numero di contagi non corrisponde il numero di ospedalizzazioni. Intanto, quando parliamo di pandemia, parliamo di lavoro, eccetera, eccetera, però parliamo anche di scuola. Ora, l'anno scorso ci siamo fatti trovare impreparati, nonostante l'esperienza. Quest'anno, più o meno, la storia si potrebbe ripetere. Intanto, sul fronte dei vaccini, sono in 4.300 tra professori e personali che ancora non sono vaccinati. Il commissario Figliuolo alle Regioni sta dicendo per queste persone, per questi operatori, per questi professori e per il personale delle scuole, fate, create delle corsie preferenziali nei centri vaccinali. L'assessore invece regionale, Saltamartini, pensa al Giro di Vite, un summit con il direttore USR, che sarebbe l'ufficio scolastico regionale. Ora, la cifra non è definitiva, mancano i dati chiesti agli enti comunali, i medici, farmacie e camper nei luoghi della Movida per allargare la platea. Insomma, si sta tentando, come vedete, in tutti i modi e con tutte le tecniche possibili, anche con questi camper allestiti davanti ai luoghi dove si radunano i giovani soprattutto, sperando di convincerli a vaccinarsi. Ecco, quindi questo è il tentativo. Intanto, sull'altra pagina del Corriere Adriatico, come vedete, ci sono due pareri, due presidi, che il Corriere ha intervistato, Samuele Giombi, direttore e dirigente del Nolfi di Fano, e poi Ado Evangelisti, dirigente ad Ascoli Piceno. Allora, che cosa dicono sinteticamente Giombi ed Evangelisti? Giombi dice, tra marzo e aprile c'è stata tanta profilassi e dice lui, non mi risultano casi di deliberato rifiuto alla vaccinazione. Da notizie informali in mio possesso, la vaccinazione dal personale è avvenuta in modo capillare e ritengo di conseguenza che il livello di copertura sia senz'altro elevato. Poi però sposta il problema, giustamente Giombi, su un altro aspetto, che non è soltanto quello del vaccino, ma quello di non farsi trovare impreparati sul fronte dei trasporti. Uno dei principali punti deboli emersi lo scorso anno, e nel caso in cui gli autobus colastici dovessero per legge garantire di nuovo un carico ridotto rispetto alla capienza reale, cioè se ne un pullman da 100 ti obbligano a caricarne 50 per stare distanziati, è ovvio che poi servono più pullman, servono più mezzi, ma se non ci si pensa adesso rischiamo di trovarci di nuovo in difficoltà. Ora, lo scorso anno ci troviamo in difficoltà perché sembrava che non ci fosse tempo sufficiente a provvedere, ma a questo punto una tale giustificazione, dice Giombi, non reggerebbe più. Mentre Ado Evangelisti, anche qui lui dice molte somministrazioni con i permessi, cioè molti collaboratori di questo dirigente hanno chiesto dei permessi e delle ore per poter uscire da scuola e poter andarsi a vaccinare. Quindi anche a lui non risultano, evidentemente nella sua area di competenza, non risultano insegnanti, professori o operatori che rifiutano il vaccino. Sempre sul tema della sanità, sull'ospedale unico, ricordo abbiamo parlato ore e ore, scritto e riscritto pagine e pagine di giornali. Ospedale unico, l'ospedale unico Fano-Pesero non esiste più, lo sapete, però c'è ovviamente la necessità di costruire un ospedale di primo livello a Pesero e di sistemare ovviamente il Santa Croce a Fano e questo è l'obiettivo della Regione Marche. Lorenzo Furlani questa mattina scrive su questo nuovo ospedale che pare costerà circa 170 milioni, il progetto è stato avviato, anche in questo caso viene interpellato l'assessore regionale di riferimento che è Saltamartini, il quale dice sarà di Pesero, superiamo il presidio unico, intanto sono stati eseguiti sopralluoghi con acquaroli e ricci, sia a case bruciate che a muraglia. Ovviamente a case bruciate si risparmia di più e tra un istante vedremo il perché. Allora intanto si lavora la delibera per modificare il piano sociosanitario perché poi va bene tutto, i sopralluoghi, ma quello che conta sono i documenti. In questo articolo mi soffermo, ovviamente non vi tolgo il gusto di leggervi tutti i particolari, ma credo che sia importante anche per i telespettatori di Fano che quindi hanno a cuore il Santa Croce, che si sono in molti casi anche battuti per il suo mantenimento e il suo potenziamento. Ora Furlani scrive Il cambiamento più significativo riguarderà il Santa Croce di Fano per il quale l'attuale piano regionale prevede l'accorpamento delle più importanti funzioni ospedaliere nel nuovo presidio pesarese dell'azienda Marche Nord in una formula che peraltro era già stata addolcita rispetto all'originario ospedale. Il Santa Croce con questo progetto manterrà e per certi aspetti recupererà le sue funzioni ospedaliere di primo livello. In qualche modo dunque non verrà declassato come pareva nel vecchio precedente progetto. Poi a proposito dei due siti, quindi Muraglia e Case Bruciate, sulla localizzazione dunque del nuovo ospedale di Pesero c'è questa interlocuzione tra la Regione e il Comune e ovviamente la costruzione a Case Bruciate vicino al casello della Quattordici in un terreno di proprietà di Marche Nord secondo la Regione comporterebbe un risparmio di diverse decine di milioni di euro perché l'area di Muraglia oltretutto geologicamente è molto più fragile. Lì ci sono delle frane, insomma c'è il pericolo di frane e quant'altro. Il progetto dell'Arenco in quel sito, quindi a Muraglia per un ospedale più grande di 612 posti letto prevedeva un investimento di 251 milioni di euro e una spesa complessiva con i canoni di manutenzione e per i servizi con la concessione per 25 anni pensate di circa un miliardo di euro. È una cifra incredibile e che però con questo nuovo orientamento verranno risparmiati. Torniamo a parlare adesso di vaccinazioni perché sul resto del Carlino Roberto Fiaccanini questa mattina ci informa di questo signore, di questo imprenditore che è finito in terapia intensiva dopo aver ricevuto due dosi di Sputnik a Mosca. Poi lui si è contagiato. Il laboratorio di virologia di Torrette di Ancona rivelerà se è stato contagiato da una variante che ha aggirato il cosiddetto vaccino russo e intanto la rianimazione riapre dopo appena una settimana da quando erano stati dimessi gli ultimi pazienti. Quindi le rianimazioni ovviamente sono sempre aperte però quelle che hanno chiuso sono quelle dedicate ai Covid. Magari si potessero chiudere per sempre le terapie intensive. Le terapie intensive purtroppo ci sono sempre negli ospedali ma quella dedicata ai Covid era stata chiusa. Adesso per un paziente è stata riaperta. Mentre sul Corriere Adriatico di Fano lavoro agile, tassa rifiuti e sanità si eleva alla conflittualità sindacale tra tre fronti caldi sull'azienda dei servizi chiesta una riduzione di tariffe per pari agli utili. Poi qui di spalla festeggiato ieri il fanese più longevo a 106 anni chi ha visto il nostro telegiornale ieri sera e ci sono le repliche anche nella giornata di oggi potrà sentire anche la viva voce di Bruno Gambini che ospite in ottima forma a Famiglia Nova che vedete in questa fotografia qui sotto con l'assessore Dimitri Tinti. Poi la cronaca schianto in via Mattei sempre a Fano ferito un motociclista un altro centauro cade a causa di un ciclista che pedala però contro mano. Smart revocato quindi lavoro al computer da casa revocato il primo giorno filaliscio siamo sempre a Fano dipendenti comunali rientrati in presenza e dall'amministrazione fanno sapere che particolari problemi non ci sono stati intanto per il futuro l'obiettivo è fare il punto sullo stato di organizzazione. E sempre a Fano in città fanno il tifo per Sauro il volontario Sauro il volontario lo vedete in questa fotografia ha 52 anni mentre in maniera molto vedete precisa e diligente sta pitturando tinteggiando il ponte cosiddetto il ponte rosso credo che sia il ponte rosso il ponte stotto ma comunque la città fa il tifo per lui perché? Perché a lui è stato intimato dal comune di non andare avanti con i lavori di non fare questi lavori così di testa sua come verrebbe da dire e anche qui non è la prima volta che succede chiaro che va da una parte come dire lodata questa iniziativa del tutto spontanea privata un senso civico forte che ha fatto sì che quest'uomo prendesse pittura secchiello pennello ha speso dei soldi anche per la pittura insomma sistemando quello che secondo lui era un luogo e un'inferiata così un po' malandata però dall'altra parte ci sono delle regole e queste regole vanno rispettate se ognuno di noi che a cuore la città prendesse oggi il secchiello con la paletta domani che ne so il frullino per tagliare l'altro la motosega cioè sarebbe si perderebbe il controllo al di là degli aspetti come dire più legati alla sicurezza e quant'altro quindi ognuno non può fare di testa sua e quindi da una parte è giusto che sia stato in qualche modo bloccato però si potrebbe studiare una formula una situazione che magari può prevedere il raggruppamento di tutte queste persone che hanno cuore alla città metterle in qualche modo unirle in un'associazione in un qualcosa del genere e dotarle di tutte di tutto quello che gli serve per per mettersi al lavoro e per essere comunque utili alla collettività invece ci sono dei residenti che hanno tutt'altro sentimento nei confronti della città di Fano sono abbastanza arrabbiati per non dire altro e sono quelli che abitano nei pressi di Piazzale Marcolini nel centro storico di Fano perché questi abitanti questi residenti hanno il problema dei parcheggi il comune di Fano Piazzale Marcolini da sempre è destinato al parcheggio delle auto è una situazione disagiata perché è pieno di buche sporcizie e quant'altro c'è un progetto che il comune ha di riqualificare questo questo piazzale ma che non prevede i parcheggi e dunque i residenti sono preoccupati perché i parcheggi li stanno togliendo in tutto il centro storico e ovviamente non sanno dove andare a parcheggiare ora i giovani pallavolisti invece siamo di nuovo sul Corriere i giovani pallavolisti saranno i protagonisti a Fano nei prossimi giorni e arriveranno da tutta Italia nei palazzetti nei campi di Fano Lucrezia e Marotta ci saranno infatti le finali under 19 e ve ne parleremo anche nel corso del telegiornale di questa di questa sera poi a Fano si selezionerà l'olio migliore del Mediterraneo sabato le premiazioni di Olea San Domenico consegnati 650 campioni di olio che dovranno essere assaggiati per decretare poi quale sarà appunto il miglior olio del Mediterraneo e questo grazie all'associazione che riunisce Olea appunto i più esperti assaggiatori di olio a livello nazionale e Fano è diventata il centro di maggior interesse dei produttori e dei cosiddetti frantoiani quelli che hanno il frantoio che poi serve per fare l'olio ok adesso ci sono altre notizie ma qui salto perché il tempo a nostra disposizione sta per terminare una brutta notizia che arriva dal carriero di Pesaro e che sta davvero colpendo tutti quelli che hanno conosciuto questo ragazzino di 18 anni lui è Thomas Garavalli che se ne è andato l'altro ieri ad appena 18 anni all'ospedale San Salvatore di Pesaro dopo essere sopravvissuto a una emorragia cerebrale che lo aveva colpito quando aveva appena 10 mesi un male che ha cambiato per sempre il corso della sua storia ma anche quello di tutta la sua famiglia di mamma Erika Babbo Mirco e degli altri tre fratelli più piccoli Giosuè Daniele Filippo oggi gli daranno l'ultimo saluto alle 17 nel campetto sportivo di via dell'altarello accanto alla chiesa di Cattabrighe ma saranno in tanti a stringersi nel nome di Thomas perché lo ricorda per esempio il parroco Don Michele Rossini dice era un ragazzo speciale attorno a lui si sono creati tanti legami veri secondo i medici doveva vivere poche ore invece è arrivato a 18 anni ci ha lasciati ma sappiamo che adesso è davvero felice pagina della Valmetauro ragazzi che vedete sono cittadini attivi da una parte affano un pensionato che è stato bloccato per il suo senso civico dall'altro i ragazzi vengono incentivati ad essere cittadini attivi per la cura dei beni comuni anche accoglie il Metauro l'esperienza del volontariato con ricompensa in buoni acquisti vedete sembra quasi una contraddizione ma da una parte si educano i giovani a fare volontariato eccetera dall'altra quando lo fanno poi vengono bloccati insomma bisognerà mettersi anche un po' d'accordo ma comunque questo è Urbino adesso rafforziamo i controlli con altre violenze stop ai locali il monito del sindaco di Urbino una settimana dopo l'investimento in centro alle tre di notte anche qui parliamo di Movida molesta di Movida un po' fuori controllo a Urbino adesso vedremo poi ci saranno comunque nuovi controlli sulla pagina di Vallefoglia biodigestori la regione sarà la discarica del centro Italia e l'allarme degli attivisti di Vallefoglia che chiedono una moratoria per la pianificazione mentre vi saluto con questa notizia il Fano a Russo cioè Mario Alessandro Russo 43 anni l'accordo è vicino pare che questo imprenditore di Caserta sarebbe a un passo dall'acquistare il Fano è tutto grazie per averci seguito ci vediamo stasera grazie a tutti grazie a tutti